È bello vedere dei giovani come voi, che dedicano alcuni anni della loro vita alla Chiesa, segnatamente al successore di Petro. È un'occasione unica per crescere nella fede, per sperimentare l'universalità della Chiesa e per fare un'esperienza di fraternità. Così Papa Francesco ha salutato le 23 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia e tutti i 110 soldati del piccolo esercito che è in Vaticano dal 1506 ricevuti in udienza con i loro familiari dopo il giuramento delle reclute. Siete chiamati a vivere il vostro lavoro come una missione che il Signore stesso vi affida, ha aggiunto il Papa, e nel tempo che trascorrerete qui a Roma potrete approfondire l'amicizia con Gesù e camminare verso la santità. Siate saldi nella fede e generosi nella carità, ha concluso Francesco, verso le persone che incontrate, testimoniando gentilezza e spirito di accoglienza, altruismo e umanità verso tutti.